Elezioni comunali, si voterà a Massafra il 3 ed il 4 ottobre alla scoperta dei vari candidati alla carica di sindaco con le coalizioni a supporto e di programmi. Siamo con Nino Castiglia, candidato sindaco. Castiglia, presenti intanto le forze a supporto e a sostegno della sua candidatura e poi soffermiamoci sui motivi per i quali lei ha deciso di candidarsi. E' chiaramente una coalizione di centrodestra, la nostra, formata da forze civiche, da simboli civici, identificata in un contesto che coinvolge Fratelli d'Italia, noi con l'Italia, verde popolare appunto e l'unica lista civica che è Massafra Futura, che ancora rappresento in Consiglio Comunale. Chiaramente, come ho detto poc'anzi, è una coalizione di centrodestra e molto omogenea, fatta da uomini che hanno sempre tenuto molto la coerenza e l'appartenenza dei colori. Ecco Castiglia, quali sono state le ragioni profonde che hanno fatto scattare la molla, hanno fatto sì che lei decidesse di presentarsi come candidato sindaco? Beh, dopo tanti anni di esperienza qui nella mia città, è ormai una vita che faccio umilmente il lavoro sporco della politica, dopo 30 anni avevo la necessità di dare il mio volto ed una idea di città a cui tengo molto. Ho un'idea, ho una visione di come vorrei che la città si presentasse nel prossimo futuro e dopo tanti anni ho sentito la necessità insieme a tanti amici di rappresentare noi stessi, ma soprattutto un'idea di politica fatta di coerenza e soprattutto un viaggio che ci porterà ad esprimere tutto il nostro sapere, la nostra conoscenza di questa città della provincia di Taranto che a nostro parere non ha meritato l'attenzione che gli spetta in questi anni. Grazie a tutti.